Una storia lunga 60 anni che prosegue barra dritta verso il futuro è quella del Fondo Sociale Europeo, il primo dei fondi strutturali nato dopo la creazione della Comunità Economica Europea a cui è stato dedicato l'evento annuale del programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo al Teatro della Compagnia di Firenze. Una lunga giornata intitolata non a caso da 60 anni le persone al centro è organizzata in tre sessioni per fare il punto su quanto fatto finora dalla regione toscana, sugli interventi attuati e soprattutto sull'orizzonte delle politiche europee di coesione dopo il 2020. A dare il là, letteralmente, è stata l'esibizione dei Monologue, la giovane band di Grosseto che ha vinto il premio di 3.000 euro finanziato proprio dal Fondo Sociale Europeo al Rock Contest 2017 con la canzone Ferro e Fiamme che meglio di tutte ha saputo esprimere la condizione dei giovani di oggi. Una condizione affrontata dai relatori sul palco che nel tratteggiare il quadro toscano hanno evidenziato che nella prima fase della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo è già stato impiegato in Toscana il 40% dei 372 milioni di risorse disponibili, cioè circa 308 milioni per bandi e progetti sfociati in 7.000 interventi rivolti a 430 mila persone perché, lo ha ribadito il presidente della regione toscana Enrico Rossi nella tavola rotonda sul post 2020, è alle persone e al sociale, non solo al mercato, che l'Europa deve guardare. Le strategie Europa 2020 sono strategie che fissano obiettivi per una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva e per rafforzare il mercato sociale sostenibile in Europa. Il problema è che queste strategie non sono altrettanto cogenti come le regole, ad esempio, sul patto fiscal compact, sul patto di bilancio. Su quelle l'Europa fa sempre le pulci. Sulle strategie sociali e di sviluppo contro la disoccupazione, contro l'abbandono scolastico, per la ricerca, per attutire i cambiamenti climatici. Su queste strategie c'è solo una possibilità da parte dell'Europa di agire, quella di mettere i fondi strutturali. Una discussione animata e partecipata che ha dettato alle strategie che la Toscana sta già attuando a livello europeo per evitare il ridimensionamento paventato delle risorse destinate alle politiche di coesione, del quale il presidente Rossi ha parlato anche con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. L'Europa deve essere anche dei lavoratori, deve essere dei giovani, deve essere dei ricercatori e deve essere a sostegno delle imprese che fanno innovazione e ricerca. Questo è l'obiettivo che ci proponiamo. Noi ci mobiliteremo insieme a tutte le altre regioni, il nostro paese ha una posizione assennata perché l'Europa non riduca questi fondi nel settennato che va dal 2020 al 2027. Prospettive disegnate sulla base dei dati illustrati anche attraverso un video proiettato in sala sui 60 anni del Fondo Sociale Europeo e la Toscana ha fatto propri da subito gli obiettivi europei in materia di occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici, povertà e formazione anche con risorse proprie oltre che nazionali e naturalmente europee. Un merito riconosciuto anche da Bruxelles. Ma a che punto siamo con il negoziato per la definizione del bilancio per il post 2020? Il punto è molto importante perché ha un Consiglio europeo oggi che tratta molti assunti e le negoziazioni cominciano. È una grande riflessione su cosa volevo fare con l'Europa, proseguire l'Europa, il Presidente Juncker ha fatto una riflessione in marzo e dopo tutti i stati membri devono riflettere e discutere cosa è importante per l'Europa nel futuro dopo e vinte e vinte. Non solamente i soldi ma anche gli obiettivi politici perché c'è una situazione nuova che non c'è mai la Gran Bretagna e dunque è molto importante anche la situazione dei migranti e anche altre molte sfide d'Europa in questo momento. Il futuro, questo è il senso della giornata, è tutto in un'Europa che sappia ascoltare i cittadini, un'Europa sociale che sappia essere continuativa nella programmazione degli interventi. Sono allo studio tutte le strategie per far sì che il contributo della partecipazione all'Europa e che anche il miglioramento in termini di attività e di politiche abbia un carattere continuativo e non abbia nessuna battuta d'arresto tra l'una e l'altra programmazione. Infatti è importantissimo quanto dall'Europa riceviamo, tutta la discussione in termini di politiche e le anticipazioni che la Toscana realizza sono molto molto importanti, ha iniziato con Garanzia Giovani ma continua ad mettere al centro le persone e l'attenzione sulle competenze perché proprio questi interventi consentiranno di migliorare l'interazione con il mondo delle imprese. Uno sviluppo che passa dai giovani per i quali molto si è fatto ma ancora tanto resta da fare e in Toscana va meglio che nel resto d'Italia, per esempio sul fronte dell'abbandono scolastico, calato tra 2014 e 2018 del 2,3%, così come sul fronte dei NIT, i giovani che non studiano né lavorano, scesi nello stesso periodo del 2%, ma l'obiettivo è fare meglio e per questo occorre capire come utilizzare i fondi in futuro. Questo è il momento di andare a rivedere anche la seconda fase di attuazione, in che senso, cioè andando a rafforzare quelle politiche, quegli interventi che hanno dato risultati migliori, più efficaci e anche in relazione al contesto cambiato. Abbiamo avuto, per le materie che seguo io, abbiamo avuto una riforma della scuola, con la riforma degli istituti professionali collegata, abbiamo avuto una riforma soprattutto del mercato del lavoro, del ruolo dei centri per l'impiego. Anche perché, come ricordato nel titolo della giornata, i destinatari finali degli interventi sono le persone e i giovani in particolare, come i tanti ragazzi che hanno reso vivace l'evento dedicato al Fondo Sociale Europeo, gli studenti dell'alberghiero Saffi di Firenze, per esempio, hanno collaborato al servizio di accoglienze di catering, grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro in un istituto come il nostro, noi siamo un istituto professionale, è di fondamentale importanza per poi mettere in pratica quei concetti e quelle buone pratiche che a scuola vengono applicate tutti i giorni e quotidianamente. Noi siamo costantemente in simulazione di impresa, non so se sapete, ma da noi c'è un ristorante didattico, un bar didattico e come tale svolgiamo quotidianamente questo tipo di servizio. Solo dal 2000 il Fondo Sociale Europeo ha raggiunto oltre 1.300.000 persone, 450.000 sotto i 30 anni, permettendo loro di trovare lavoro o migliorare la propria occupazione. Nel corso del 2017 sono stati rafforzati i servizi per l'impiego, gli incentivi per le imprese in area di crisi e le misure a sostegno dei lavoratori precari o di aziende in difficoltà. Oltre 255 milioni del POR FSE sono destinati ai giovani, che con il progetto per l'autonomia della regione toscana Giovani Sì hanno avuto accesso a tirocini, servizio civile, apprendistato e alternanza scuola-lavoro. Molte le esperienze raccontate dal vivo nel corso dell'evento annuale a Firenze da alcuni testimoni, come Chiara, che così giudica il Fondo Sociale Europeo alla luce del proprio percorso. Mi ha aiutato molto, nel senso che ho trovato dalla scuola che ho fatto, ho trovato subito lavoro nell'ambito in cui volevo lavorare. Ho fatto lo stage presso Gucci, calzature e niente, sono stata assunta dopo lo stage. Un quadro molto positivo che trova conferma anche nell'esperienza di tutor raccontata da Alessia. E riporto la nostra esperienza più che positiva di un territorio che ha risposto al problema dell'inclusione sociale e ha accolto gli utenti e li ha inseriti negli staff aziendali. Il bilancio è sicuramente più che positivo perché, come è stato detto questa mattina, sono risorse che si occupano veramente delle persone, mettono le persone al centro e quindi è giusto che si continui ad investire in questo senso perché comunque è un fondo che crea lavoro e opportunità. Ma l'intensa giornata dell'evento annuale dedicato al Fondo Sociale Europeo ha affiancato alle testimonianze e ai progetti per il futuro raccontati sul palco del Teatro della Compagnia anche la visita di una delegazione all'Istituto Agrario di Firenze che grazie ai bandi vinti è riuscito a migliorarsi e che nel corso degli anni è diventato una punta di diamante sul fronte dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro. Per i ragazzi c'è l'aspetto legato allo sviluppo delle loro competenze perché poi alla fine il Fondo Sociale incide sul capitale umano e su quelle che sono le competenze delle persone. Qui si intende aiutare e supportare le scuole e gli istituti in quella che è la loro attività naturale ma soprattutto quello che ricerca la regione toscana e quindi con le proprie politiche tende a sviluppare è il fatto che la scuola realizzi la propria attività di soggetto formatore quindi di organismo formativo però raccordandosi con il mondo delle imprese questo per fare in modo che poi i ragazzi non solo ci sia tra l'Istituto e l'impresa una coprogettazione quindi definire i programmi in base a quelle che sono anche le esigenze delle imprese che poi assumeranno questi ragazzi quindi l'obiettivo finale può alla fine non solo la definizione delle competenze ma poi eventualmente l'assunzione di questi ragazzi quindi trovare un'occupazione. Per noi vale anche il fatto che ci sia poi un prosieguo delle attività formative. L'itinerario della delegazione ha affiancato alle parti esterne dell'Istituto anche il Museo dell'Istruzione Agraria sotto la guida del dirigente scolastico Ugo Virdia che così descrive il ruolo del Fondo Sociale Europeo nella crescita della scuola. Questo ha consentito da una parte di aprire di più la scuola agli operatori aziendali aumentare la connessione tra operatori aziendali e insegnanti dall'altro creare dei percorsi più personalizzati per ragazzi che magari hanno dei bisogni formativi mirati, hanno bisogno di attività di eccellenza, hanno bisogno di attività di approfondimento, ricerca e percorsi ulteriori. Non ultimo questi fondi hanno messo delle sinergie nella progettazione del collegio docenti e del piano dell'offerta formativa. Esperienze concrete che ora guardano al futuro, per il 2018 sono già stati programmati oltre 20 interventi tra tirocini, servizio civile, sostegno alle persone disabili, accompagnamento al lavoro. Grazie.